più su e la palla non sarebbe entrata siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1 il Real Madrid supera la metà campo ha un autostrada Bale! sono avanti di un gol grazie a questa rete i primi 45 minuti si chiudono di fatto con questo gol del Real Madrid che può essere pesante una replica del loro murale